La presenza di MSC a questo appuntamento di Blue Skills è in qualche modo naturale. Genova è la nostra città, come avete letto in grandi titoli dei giornali, per voce proprio dell'armatore, quindi è molto importante essere qui. La Blue Economy è l'economia che può rilanciare questa città, che l'ha resa importante e forte e quindi tante energie sono dedicate proprio in questa direzione. Il momento storico di grande espansione dell'azienda richiede anche di dare uno sguardo molto interessato a tutti coloro che vogliono dare un inizio o una svolta alla propria carriera per abbracciare le varie aree della Blue Economy. Il pianeta blu è il nostro habitat, è il mondo in cui ci muoviamo e che ci consente di fare quello che facciamo e per questo tecnologie, energie e tutto quello che può richiedere viene speso per la sua salvaguardia. Ecco, questi sono i significati della nostra presenza qui. Crediamo sia molto importante per il territorio, per gli abitanti del territorio, per i giovani o i meno giovani che intendono intraprendere una carriera sul mare.